Un incontro con il Ministro per il Sud, tanti argomenti dalle vele a Bagnoli, ma la novità forse è il coinvolgimento delle città per la programmazione prossima di Fondi Europei. Soprattutto è stato un incontro importante perché si sono confermate le linee sulle quali stiamo lavorando, il che non è mai scontato nei rapporti istituzionali in politica, quindi confermato il finanziamento per l'integrazione del progetto Restart Scampia, cioè la parte della rigenerazione urbana, non dell'abbattimento. Fine 2019-2020 devono essere i mesi in cui si vede il lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi su Bagnoli con l'accordo interistituzionale, quindi bonifiche che partono, quindi il ruolo dei soggetti attuatori e raccogliere il bando internazionale di idee per poi aprire un confronto con la città. Non si ferma, anzi si riparte subito col contratto istituzionale di sviluppo, Ministero per il Sud e Ministero dei beni culturali, riprogrammazione di tutte le linee di finanziamento di coesione, patto per Napoli e altro con ulteriori risorse e il coinvolgimento delle città, quello che io ho sempre chiesto e ne abbiamo sempre chiesto sinora per la programmazione 21-27, sapete che sia nella gestione precedente mai c'era stato un coinvolgimento di questo tipo, quindi credo che da un punto di vista istituzionale e politico è un ragionamento che ci vede assolutamente soddisfatti. Insomma in questo modo noi andiamo a concretizzare sempre di più e in maniera rapida il lavoro enorme che abbiamo fatto e anche su questo il Ministro si è impegnato a accelerare, semplificare e agevolare al massimo tutti gli interventi in modo che i cittadini possano vedere il grande lavoro che si è fatto e che si sta facendo, quindi quella auspicabile cooperazione istituzionale con questo Governo attraverso le interlocuzioni con i vari Ministri, adesso con il Ministro per il Sud si sta realizzando concretamente. Napoli, ne abbiamo ragionato nell'incontro del mio ufficio, può essere la prima sede in cui effettuare quell'incontro coordinato dal Ministro con i sindaci delle città metropolitane del Sud, in modo da fare squadra compatta per un Sud forte, con dignità, autorevole che può diventare la punta di diamante per il riscatto dell'intero Paese e per un Paese più coeso che sappia veramente valorizzare tutte le autonomie e tutte le differenze.